Siamo al termine di Cairese finale 2-0, giocata dopo diverso tempo sul terreno del Lionello Rizzo di Cairo. Mister Mario Benzi, un giudizio su questa partita, una partita soprattutto nel primo tempo ben giocata ad un buon ritmo tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto e una Cairese che ha creato una mole di occasioni da rete impressionanti. Sì, direi di sì, l'ammarico è quello perché avendo giocato mercoledì e incontrando le squadre di Lutu che sono squadre preparate bene e che sanno mettere in difficoltà era il momento di fare i gol per stare più attenti, dobbiamo essere un po' più bravi quando capita però quando crei tante occasioni l'importante è crearle, poi poteva finire con un risultato sicuramente più ampio però la sofferenza fa parte un po' di questa squadra però ripeto una prestazione buona, avendo giocato mercoledì e abbiamo creato veramente tante occasioni rischiando praticamente niente. Ecco, la preoccupazione di tutti è che da stasera praticamente il calcio dilettantistico vada in soffitta, qual è la tua opinione in merito? È così, voglio dire, non so, dispiace perché questi sognozzi qua non è che facciano bene a tutti però io capisco che la prima è la salute di tutti, soprattutto di noi dilettanti dove lavoriamo tutti quindi chiaramente c'è il rischio e il pericolo del lavoro di tutti però vediamo, aspettiamo, è inutile fare per i migliori, aspettiamo perché viene. Un'ultima battuta, non posso non fartela, una Marcord, un'intervista del generale te la feci più di 30 anni fa su questo campo quando giocavi con la maglia della Cairesi, mantiene sempre un certo fascino questo campo? Io sono sempre stato pro questo campo perché per me mi ricorda 30 anni fa quando abbiamo giocato due o tre mesi qua sopra con il pubblico, le partite erano veramente partite vere con tutto il pubblico e il calcio, il bring è sicuramente uno stadio veramente che chiunque viene rimane a bocca aperta però io sono più da questo campo qua, questo campo che per me è la storia della Cairesi e credo che sia questo campo qua, mi ha fatto piacere venire di nuovo. Grazie mille Mario. Grazie a voi.